Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su FIFA 17 Pronti e carichi perché la nostra squadra fa veramente schifo, e l'abbiamo dimostrato Ora, c'era un problema, un piccolo problema nel mio joystick che ho risolto Questa è la nostra squadra, attualmente fa schifo, quindi ci andiamo a fare un bel chest opening Da 100k, tanta roba, per vedere un po' che cosa riusciamo a fare, a prendere nuove carte Magari troviamo cartona della madonna, però intanto gli facciamo tutta la squadra oro Che non è male, non è male Bene, iniziamo Riprendiamo ora con i pacchetti, i miei pacchetti... non devo aprire, ok Pacchetti argento, pacchetti oro Iniziamo a spacchettare a 7500 crediti, sono 10 oro e 3 rari Iniziamo Via, vediamo un po' che troviamo, ma sono emozionatissimo Ok, una merda, clamorosa Ok, mi fa il tutorial, tatatatata, contratti, contratti Davvero perché ci sono anche i contratti, dimenticavo Vabbè, invia il club Aspetta come si fa? Invia tutto al club Invia tutto al club Sei sicuro? No E aspettate eh Conserva gli oggetti rimasti nel club Ok No Come chezzo funziona? Sei sicuro inviare tutti gli oggetti al tuo club? Sì, perfetto Ok, inviato tutto al club All'inizio non è andata granché Però abbiamo già sicuramente messo Eh, aumentato la nostra rosa Continuiamo ad aprire pacchetti Adesso già una rosa meravigliosa Oh, vediamo questo che troviamo Però non è fortissimo 77 Richards Va bene, ok Fattibile Vediamo un po' che altro abbiamo trovato Richards Eh, comunque questo è forte, cazzo Ok, inviamo tutto al club Sì, perfetto E continuiamo a spacchettare roba Apriamo uno da 5.000 Dai, vediamo che cosa c'è Questo da 5.000 Dai Crociamo le dita Vabbè No, ma questa è un tutta roba che fa comodo Perché i contratti servono un botto E quindi ci può stare Aspettiamo altri 7.500 crediti Dammi qualcosa Schippiamo anche questo Cazzo, dai, ma i contratti oro Porca troia, che sfiga Non è proprio Quello che mi aspettavo Comunque altri 7.500 crediti Forza, questo ce lo guardiamo, eh Pronti ad esplodere Se vi chiedete Perché ho la face cam rotonda Poi ho visto difensore centrale Rodolfo Con la H Non so come si può pronunciare Brasileiro comunque E anche un argento Una divisa argentona Abbiamo trovato Così possiamo cambiare anche le divise Ora, altra cosa che vi volevo dire Ho la face cam rotonda Per il semplice fatto che C'è il mio conquilino Che sta studiando E quindi non lo riprendo così E di necessità si fa virtù Ragazzi E per forza Poi è pure più figa Quindi la passiamo Adesso mi stanno arrivando Anche le luci Spagnolo E dai Sterno destro Spagnolo Navas No, Navas Navas Spacchettare 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 Forza Portaci fortuna Dammi qualcosa Portogallo Portiere Del Portogallo Subito Cristiano Ronaldo Sarebbe stato eccessivo Aspetta No, un attimo Che cos'è? A mille crediti Riscatto oggetto Ok Ci rendiamo a 6.000 crediti Che alla fine vabbè Ci stanno Mandiamo tutto al club E continuiamo a spacchettare Altri 7.500 crediti Appena usciranno comunque I pacchetti bonus Faremo un altro spacchettamento Esterno o spagnolo Va bene La chiave altro abbiamo trovata Argentone Letizia E la squadra dell'uruguayano Ospite Va bene Inviamo tutto al club Sto iniziando a capirci un po' Su FIFA Ragazzi Proviamo ad arrivarci Che ne so 500 mi piace Non sparo alto Però Figa V'ho portato lo spacchettamento Non è un grande spacchettamento Però è qualcosa di decente Stanno adesso Dedesco Che c'è? Miller Però non è quello forte Madonna Però 88 velocità Bestia uguale 77 dove rolla? Però mi piace Molinaro Ok qui che abbiamo 1000 crediti Riscatta subito Ok e questo è altri 1000 crediti Riscattiamo anche questi Madonna Ho visto tedesco qui Cazzo Vabbè Va bene anche Miller Va bene Miller così Insomma dobbiamo fare la squadretta Adesso non punto ai grandi campioni Però magari riuscissimo a trovare qualcosa Sì ovviamente sarebbe Fighissimo trovare campioni Però è certo Tedesco sempre O che se non lo conosco Dai non ho una grande cultura calcistica Essere sincero I grandi li conosco Ok qui è pure doppione Invia lista trasferimenti Scarta Scarta 300 Sì scarta Non cazzo lo vendo a fare Ha dato anche un pallone Ok inviamo tutto al club Come al solito E continuiamo La nostra Possiamo aprire Quanti ancora Diversi pacchetti Sai Voglia Altri 4 pacchetti Li apriamo Stiamo finendo Però Attenzione No Niente di particolare Nulla di che Tac tac Contratti 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 Divise 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 Na merda Insomma Altri argentoni Per noi Io non sono riuscito A trovare pacchetti bonus Ma ci sono altri pacchetti Pacchetti oro Vediamo eh Eh sono sempre quelli Non è che ci sono Schiechi Robè Vedi pacchetti Vediamo se c'è qualcosa di particolare Eh no Sono sempre quelli Non ci sono offerte Però vabbè Dobbiamo fare la squadra E quindi Ci sta il fatto di Di prendere Dei nuovi pacchetti Questo è oro Raro Esterno destro Chi cazzo sei Lennon 89 lucida Ragazzi Tutte bestia Facciamo una squadra Straveloce Porca miseria Che figa Aspetta Vediamo che cosa c'è di qua La squadra dell'Italia La maglia dell'Italia Bellissima Metterò la maglia dell'Italia Come seconda maglietta Ovviamente tutta bianca Ci sta 7500 credit Apriamo ancora Sono gli ultimi due pacchetti Che andiamo ad aprire Incrociate le dita Niente Non mi piace Però un portiere ci voleva Ah no no Questo è forte il portiere Altro allenatore La maglia del Torino No lo stemma del Torino Mettiamo anche lo stemma del Torino Poi c'è tutto in casa Tutto italiano Apriamo gli ultimi due O l'ultimo Dai apriamo gli ultimi due Così abbiamo possibilità In più Tra virgolette Questo lo apriamo subito Così a buffo Un cazzo Un cazzo Va bene un cazzo Perfetto Ultimo pacchetto Da 5000 crediti E siamo a posto Apri Andiamo a vedere Che cosa ci tira fuori Esterno No niente 81 però di overhaul Anche questo è buono Adesso andrò a vedere la squadra Come farla Anche questa divisa È simpatica Modificatore ruolo Vabbè questi non ci interessano Lopez Tenterò di fare Rabiot Del Paris Saint Germain Forte anche questo ragazzo Un centropista centrale Lo va bene Adesso mi vado a fare Sta squadretta Vediamo quello che è venuto fuori Con tutti questi crediti Che abbiamo Speso Per trovare una bella squadra Tentiamo di fare appunto Sta squadra molto molto forte E vediamo quello che scappa fuori Ragazzuoli La squadra è La seguente Non è malissimo Devo essere sincero Valutazione 78 Intesa 76 È figo Lasciatemelo dire È abbastanza figo Fattibile Già abbiamo Di tutto l'ispetto Sentite All'inizio Faccio la schifo Però se sperimentali niente È passata Da tipo Da 64 a 78 Anche l'intesa È migliorata Non sono arrivato A intesa 100 Magari col prossimo Spacchettamento Che faremo Praticamente Tra pochi giorni Se vi piace questa serie Vedremo Spereremo Spero appunto Di trovare qualcosa Di decente Ora Mercato trasferimenti Facciamo un po' di mercato Giusto per vedere Qualcosa di Veramente figo Qualità Voglio Ovviamente oro Oro speciale No Oro Vediamo Un oro Un attaccante Un centrocampista Magari Stile Intesa Prezzo Campionato Lo voglio Tedesco Andiamo a vedere Qualche bel centrocampista Del Bayer Di Monaco Per vedere Qualche prezzo Terribilicante Cazzo Non costano Prezzo Iniziale Ma dai No vabbè Ok aspetta Andiamo a cercare Qualcuno Tiago Prezzo Iniziale Prezzo Compra ora 55 Oddio Non costano tanto Tiago Sanchez Tiago Cazzo Pensavo Molto Molto Peggio Cioè vabbè Questi ancora Stanno alla grande Però Quanto è Tipo Alonso Compra ora 4200 Madonna La squadra Ce la facciamo così Ragazzi Consigliatemi La squadra da fare Perché tipo Free Vi compra Qualcun giocatore Tipo di quelli Assurdi Andiamo in Spagna A vedere qualcosa Di Qualche giocatore Inaccessibile Liga Russa No Non la trovo Un attimo Che la trovo Beh per esempio Già Fabregas Costa un sacco Compra subito Vabbè Compra ora 26.000 Secondo me Si riescono a trovare Offerte Oscar Un cazzo Non costa un cazzo Oscar Cioè non costano tanto Ecco Questo già Iniziano a partire Belle botte Comunque Secondo me Si riescono a A comprare Buoni giocatori Quindi se voi Mi fate una bella squadretta Perché siete molto Molto esperti Io vi ritrovo Voglio Manchester United Mettiamo Qualsiasi Noi vediamo anche Zio Ibra Se ce lo vendono Iniziamo a vedere un po' Schwanishtiger 3500 Un cazzo Praticamente Fellaini Oddio Fellaini Di sto colore Che cazzo Ma neanche troppo Ma non costano tanto Cioè pensavo La botta tremenda Invece secondo me Ci riesciamo a fare Una squadra Di quelle molto molto fighe A bassissimo costo Il che è veramente figo Non ce lo vendono Zio Ibra No Sembra di no Comunque I ragazzoli Ci sono Cioè c'è gente Da comprare Si può comprare Runei Vediamo Runei Quanto costa Carry E Runei Eccolo qua Runei 34000 Vediamo questo 131000 Dov'è un altro Runei Schwanishtiger 5700 Vabbè ok Non costano tanto Questo è quanto Quindi ragazzoli Aspetto voi che mi dite Qualche dritte E roba Ultima Giuro Ultima cosa che andiamo a vedere Del No Della Spagna Vabbè ma Boiavac Capiche Ma 17000 Pochissimo Una cosa oscena Fantastico E bellissimo Tutto ciò Vediamo Portiere Il Ter Stegen 2000 contratti Cioè Prezzo compra ora 2000 contratti Assurdo Vediamo Non c'è mercato La gente non li compra Significa Appunto Hanno prezzi Estremamente bassi Che è meraviglioso Andiamo a vedere L'ultimo club Giusto per curiosità Il Real Madrid E poi siamo a posto Carval Non costa un cazzo Qualche altro Ma io devo vedere Tipo Marcello Così costa Marcello Così già inizia a costare parecchio Carval Cross 65 Vabbè Tony Cross È un grandissimo giocatore E costa tanto Ok adesso iniziano a fare Le botte morata Tipo Non so che cosa Sia morata In questa colorazione Però costa veramente Tantissimo Isco a 7000 contratti Cioè riusciamo a fare Una bellissima squadra A basso costo Quindi ragazzoli Penso che Possiate consigliarmi Ve lo ridico per l'ennesima Consigliatemi che squadra fare Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete già fatto Di condividere i video su Facebook Per farmi c'è una persona Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ci vediamo come al solito Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti